E' un vittore emozionante, emozionante da piangere in realtà. Praticamente cinque balli, c'è il waltzer lento, detto anche waltzer inglese, c'è il tango, c'è il waltzer viennese, c'è lo slow fox e il quick step. Quinto, quarto, terzo, alla fine siamo rimasti noi e l'ex coppia campione del mondo, quelli che erano campioni del mondo l'anno precedente e quando hanno chiamato il numero del secondo posto insomma siamo scoppiati nella gioia. C'erano tutti questi giapponesi di una gentilezza unica per cui ci hanno accolto benissimo, applaudivano, sono stati molto vicini a noi. Con noi c'era il nostro insegnante, il nostro coach Massimiliano Palladino che ha fatto insieme a noi tanti sacrifici per allenarci, per i vari problemi che noi senior abbiamo, il dolorino al collo, il dolorino alla gamba, il dolorino alla schiena, però ci ha creduto. Anche la federazione ci ha fatto tanti complimenti, ha messo degli articoli sulla pagina dedicata dove appunto diceva Napoli ancora la campagna insieme al mondo con un risultato così eclatante.